buona giornata amici da massimo fogheti bentrovati alla rassegna stampa di pano tv oggi è una giornata particolare perché siamo molto vicini alla pasqua e oggi cominciano veramente i riti che poi ci porteranno alla veglia pasquale della sabato sera finché non arriva poi la mezzanotte della pasqua oggi dunque vediamo subito sull'almanacco del giorno che cosa si festeggia in realtà non si festeggia un santo ma si celebra un rito oggi si ricorda l'ultima cena l'istituzione della eucarestia si celebra il rito della benedizione degli oli santi durante la messa del crisma al mattino e poi nel pomeriggio si ricorda appunto l'ultima cena dando così inizio al triduo che ci porterà alla pasqua e se diamo un'occhiata ai giornali questa mattina vediamo come gli impegni del vescovo di fano monsignor trasarti sono particolarmente assidui in queste giornate del weekend vediamo quello che ci dicono i giornali lo vediamo qui su un articolo di spalla del corriere adriatico oggi giovedì santo alle ore 10 in cattedrale a fano verrà celebrata la messa crismale alle 14 30 all'interno della casa di reclusione di fossombrone il vescovo celebrerà una seconda messa con il rito della lavanda dei piedi cui seguirà alle 18 in cattedrale sempre a fano la messa in cena domini domani venerdì santo alle ore 18 verrà celebrato sempre in cattedrale il rito della passione del signore lo stesso verrà replicato alle 21 a pergola dove verrà organizzata anche una processione sabato alle 19 il presule sarà presente in cattedrale per la veglia pasquale domenica giorno di pasqua infine monsignor trasarti celebrerà una prima messa alle ore 8 e 30 nel carcere di fossombrone un'iniziativa questa che monsignor trasarti non ha mai tralasciato fin dall'epoca dell'inizio della sua missione episcopale e poi vediamo che al mattino alle 8 e 30 dicevo sarà nel carcere di fossombrone e poi alle 11 nel duomo di fano e infine una terza messa il giorno di pasqua alle ore 18 e 30 nella basilica di san paterniano sarà festa anche il giorno dopo il lunedì dell'angelo e in questo giorno il vescovo celebra una messa alle 17 nel convento di san francesco in rovereto dunque molti appuntamenti riti religiosi dato che la pasqua è la festa più celebrata più sentita e più importante così possiamo dire dell'anno liturgico ed ora passiamo alle previsioni del tempo vediamo la grafica ebbene sono gli ultimi addensamenti al mattino su fermano e ascolano mentre nella parte nord della regione abbiamo un tempo instabile e poi dovrebbe spuntare il sole temperature massime in aumento leggermente in aumento la minima è di 6 gradi la massima di 11 gradi ancora ci manteniamo insomma in un clima piuttosto rigido sulle coste i venti spireranno da nord così come nell'interno il mare è leggermente mosso il vento si è un po' attenuato rispetto alla alle giornate di ieri e i giorni precedenti ed ora apriamo il giornale sulla pagina di fano purtroppo siamo nelle condizioni di vedere un lutto un lutto che è veramente drammatico tragedia sul lavoro alla ditta polver nella zona industriale di bellocchi un giovane operaio è morto schiacciato la vittima è giacomo cesaretti di 26 anni di ronco sambaccio fatale la manovra di un carro ponte tragedia dunque in questo stabilimento di via papiria dove ieri mattina ha perso la vita questo ragazzo che lavorava ad alcuni macchinari secondo una prima ricostruzione il giovane fanese si trovava nella zona di una masca utilizzata per la verniciatura quando è stato agganciato da un carro ponte che poi l'avrebbe trascinato e schiacciato contro un muro purtroppo gli interventi di salvataggio anche se sono stati tempestivi nulla hanno potuto per salvare la vita a questo ragazzo la situazione è precipitata intorno alle 7.15 ebbene ed è successa veramente una cosa di gravità estrema immediata la reazione dei sindacati che sono intervenuti subito hanno fatto un presidio davanti all'azienda un presidio estemporaneo appunto dei sindacalisti e quelli che operano nel settore metalmeccanico per testimoniare la vicinanza ai lavoratori e familiari della vittima e l'emergenza della sicurezza sul lavoro è inaccettabile hanno dichiarato in una nota i rappresentanti della FIM CISL la FIOM CGL e la Wilm Wil che ancora oggi nel 2023 un lavoratore parte da casa per andare al lavoro e non può più fare ritorno ebbene i sindacati chiedono di nuovo con determinazione al ministero del lavoro di essere ascoltati prima che si legiferi sulla sicurezza e una maggiore attività di controllo nelle aziende comunque questo ragazzo lascia un vuoto veramente incolmabile Giacomo Cesaretti appunto di 26 anni viveva a Ronco San Baccio insieme con sua madre il fratello minore tempo addietro un altro lutto un altro lutto stretto la morte del capofamiglia del padre ebbene una tragedia che si è abbattuta su queste famiglie prima il capofamiglia poi il figlio maggiore ora rimane la mamma con il figlio minore veramente occorre tanta solidarietà e tanta vicinanza per lenire quanto possibile il dolore di questa famiglia giriamo la pagina senza dimenticare quanto abbiamo detto e vediamo invece un un'espressione di soddisfazione da parte del liceo Nolfi a Polloni ovvero insegnanti ragazzi studenti e anche il preside per finalmente lo sblocco perché è avvenuto finalmente lo sblocco dei 5 milioni che erano trattenuti dal ministero per una questione burocratica quindi per una questione formale mentre i ragazzi sono ancora disseminati in varie sedi degli istituti fanesi daremo consigli sul progetto ha detto il dirigente Samuele Giombi auspicò la rapidità dei lavori il preside ringrazia chi ha favorito lo sblocco dei 5 milioni ebbene prima hanno così dato dimostrato la loro soddisfazione chi più o meno ha collaborato allo sblocco di questi fondi ma però chi ha più ragione di gioire sono appunto gli studenti professori il preside dell'istituto ebbene Samuele Giombi ha detto che prima di tutto esprimo la mia soddisfazione poi cosa faccio poi voglio ringraziare tutti coloro che si sono adoperati per sbloccare questi fondi e infine auspico che i tempi necessari per la realizzazione dei lavori siano il più presto possibile si è parlato per un insieme di interventi che occupano tutto il campus scolastico di 5 anni 5 anni sono veramente tanti speriamo almeno che quella parte che riguarda la demolizione dell'ex Carducci e la sua ricostruzione siano più brevi sia una parte più breve e quindi si proceda più presto per dare una sistemazione degna consona e efficiente ai ragazzi del liceo Nolfi a Pollone il piano regolatore generale comincia a vedersi a vedersi qualcosa è stato infatti presentato martedì scorso ai professionisti nella sala di Santa Maria del Goffalone in via Rinalducci a Fano è stato presentato dal sindaco Massimo Seri e dal vice sindaco Cristian Fanesi c'erano con loro anche i tecnici comunali e anche l'architetto Antonio Mugnai della società Amata Engineering incaricata per la redazione del nuovo piano urbanistico è il primo evento di presentazione di questo strumento che viene fatto alla città scegliendo da prima gli ordini professionali poi verrà replicata questa iniziativa alle 17.30 del 18 aprile al Marine Center di Fano il vecchio laboratorio di biologia marina a tutta la cittadinanza a tutte le associazioni a tutti coloro che vorranno così apprendere quale sarà il futuro urbanistico della città se ci sarà espansione se ci sarà contenimento se ci saranno nuove norme per la edificazione per l'abbattimento e la riedificazione delle case dei palazzi e come appunto l'amministrazione comunale intende così contenere magari un'eccessiva espansione edilizia che poi crea problemi di viabilità, di parcheggi e via dicendo quelli che tutti noi sappiamo quindi un appuntamento importante intanto ieri sembra che gli ordini professionali abbiano così espresso una generale soddisfazione per quanto è stato presentato vedremo poi i particolari come emergeranno notizie di cronaca donna al volante urta moretto e si schianta su auto in sosta era a bordo di una panda che si è capovolta sulla Flaminia a Lucrezia si tratta di una 47enne residente a Calcinelli che è rimasta vittima appunto di un cappottamento con la sua auto dopo l'incidente era cosciente una volta uscita dall'abitacolo dell'utilitaria insomma ha mantenuto la sua lucidità sulla dinamica stanno indagando gli agenti della polizia locale di Cartoceto e poi davanti al tribunale si è presentato un 68enne che ha minacciato di morte nel corso di una lite con i suoi vicini e appunto questi ultimi tutto deriva da una così vertenza per una strada una strada di proprietà dei vicini appunto che il 68enne insomma voleva essere così voleva insomma trattare come se fosse la sua lui aveva il divieto di passaggio ma non se ne importava nulla e anzi minacciava di morte con espressioni veramente molto molto dure quelli che abitano a fianco alla sua abitazione ora dovrà rispondere di quello che ha detto di fronte al giudice passiamo subito a Fossombrone e cerchiamo di abbattere i tempi per relazionare più notizie possibili ebbene a Fossombrone ci sono nuove regole per la sosta e aree riservate ai residenti si tratta di una innovazione importante che viene assunta dall'amministrazione comunale la liberazione di ogni tipo di veicolo dalla parte alta di piazza Mazzini la cui esedra viene riservata invece ai residenti e non più agli esterni che dovevano ricorrere alla sosta regolata col disco orario per un massimo di 60 minuti la decisione della giunta può essere così sintetizzata concentrare in un'unica fascia oraria l'area pedonale in corso Garibaldi dalle 13.30 del sabato alle 24 della domenica successiva e poi tutti i festivi con orario 0.24 e poi abbiamo sette stalli di sosta individuati in piazza Mazzini Bassa nove in via Guidicioni, altri nove in via Passionei nel tratto compreso tra l'incrocio con via Guiducioni e quella con via Vescovado dove gli scalli passano a 5 inoltre, e questo è importante, è stato disposto il controllo elettronico degli accessi abusivi in corso Garibaldi via Battisti e via Nazario Sauro quindi attenzione alle multe giriamo ancora la pagina e vediamo come che cosa ci dicono per Senigallia il tariffario dei comuni per il personale 1000 euro per ogni nome in graduatoria un titolo che lì per lì non si coglie nel suo vero significato che cosa accade? accade che il comune di Senigallia ha fatto dei concorsi per assumere del personale che poi ha messo in lista ebbene i comuni limitrofi senza fare altrettanto che è un procedimento piuttosto costoso possono attingere alle liste del comune di Senigallia pagando 1000 euro per assunzione quindi una cifra ridotta rispetto alle spese che avrebbero dovuto sostenere se avessero fatto dei concorsi essi stessi qualche notizia per quanto riguarda Pesaro vediamo che l'apertura è dedicata a Villa Marina che offre sempre uno spettacolo indecoroso guardate qui questi teli volanti ormai tutto il complesso viene definito fantasma e in occasione della Pasqua e poi in occasione anche sempre 2024 anno di Pesaro città capitale della cultura a livello nazionale veramente è uno spettacolo indegno adesso si fa un pressing nei confronti dell'Inps che dovrebbe accelerare i tempi per riqualificare questo complesso ebbene l'Inps Pesaro per Villa Marina l'Inps Affano per il Vittoria Colonna insomma questa Inps ci dovrebbe dare una smossa per cercare di rendere funzionali e qualificare i suoi possedimenti Villa Molaroni invece ritorna al suo splendore grazie all'Arenco gestione alla Holding per altri dieci anni un ponte tra la città di mare sappiamo che a Villa Molaroni si è insediato il museo della marineria Washington Patrignani e quindi ha un bellissimo parco giardino secolare e verrà appunto gestito dall'Arenco questa società illuminata per altri dieci anni e quindi un bellissimo intervento fermeremo la mobilità passiva daremo risposte a tutti i bisogni un articolo che riguarda la bozza del nuovo piano sanitario che è stata presentata ieri a Pesaro e anche a Urbino ebbene è una bozza che abbiamo visto anche ieri si propone di dare una risposta al tema della mobilità passiva uno dei temi più onerosi sul bilancio della Regione e poi abbiamo una riforma sanitaria che è stata in parte già in vigore quella della trasformazione delle aziende ospedaliere in aziende sanitarie territoriali è altro tema importante altro tema cardine il piano prevede risposte provinciali quindi non più risposte in altre province magari nel sud delle Marche che costringono i pazienti a fare lunghe viagge e lunghe tempi di attesa però ci sono anche le critiche non mancano le critiche anche nel merito delle scelte del piano e le hanno espresso soprattutto i sindacati diamo un'occhiata a queste critiche il segretario CISL Maurizio Andreolini sottolinea manca una fase di progettazione precisa parlano di case della salute liste d'attesa mobilità passiva ma manca un cronoprogramma è una fase operativa basata sulla concretezza quindi al momento siamo soltanto alla fase di intenti a ruota si esprime Roberto Rossini segretario provinciale della CGL è stata una kermesse di fatto non hanno presentato nulla non ci sono cifre investimenti strutture non hanno detto nulla ha dichiarato il rappresentante della CISL e poi c'è anche una osservazione del sindaco di Monbaroccio Emanuele Petrucci che rileva ancora è una bozza ma il confronto sarà importante noi faremo il massimo in uno spirito di collaborazione parleremo allora della struttura di Monbaroccio su cui c'è da ponderare un'analisi dal fabbisogno di un territorio e insisteremo soprattutto sulla prevenzione questa è appunto la tesi del sindaco di Monbaroccio ed ora passiamo al resto del Carlino e vediamo che l'articolo di apertura stimola gli organi competenti ad accelerare per quanto riguarda Via Vitruvio la scoperta di Via Vitruvio ha sollevato gli entusiasmi sia a livello locale che a livello nazionale per ora tutto si è fermato e non ci vorrebbe che poi passasse tutto nel dimenticatoio Vitruvio scavia il palo ancora a cielo aperto sono protetti solo da un telone di plastica a un mese dal prezioso ritrovamento nessuna notizia da comune e soprintendenza si aspetta che arrivino i soldi 50.000 euro per proseguire gli scavi ma non si può aspettare che questi piovano dal cielo occorre operare perché questo fondo si concretizzi ebbene l'interrogativo quindi in questo caso è molto opportuno che fine hanno fatto gli scavi di Via Vitruvio la soprintendenza riferisce l'imprenditore Paolo Antognoni sta aspettando fondi del Ministero della Cultura che dovrebbero arrivare a brevissimo speriamo veramente che sia così nell'attesa però gli scavi sono protetti solo da un telone di plastica e con il vento dei giorni scorsi la pioggia eccetera c'è il rischio che quello che è venuto alla luce si rovini i fondi si parlano appunto di 50.000 euro si potrebbero a questi fondi si potrebbero aggiungere altri 20.000 euro già messi a disposizione dall'urbanistica e serviranno ad ampliare l'area di scavi si cercano conferme sul possibile collegamento tra i resti emersi e l'importante edificio della Basilica di Vitruvio una dichiarazione anche del Presidente del Centro Studi Vitruviani Dino Zacchilli non ci si può accontentare solo della passerella mediatica occorre veramente operare dal punto di vista scientifico culturale e archeologico e quindi occorre insistere perché poi la gente aspetta i risultati e ancora il resto del Carlino insiste nel così anticipare anzi nel movimentare possiamo dire la campagna elettorale che di fatto è già iniziata in vista delle prossime iniziative elettorali del 2024 ed ora l'occhio della cronaca si punta sull'assessore al welfare di comunità Dimitri Tinti Tinti ok alle primarie così come ha suggerito l'assessore Samuele Mascarin alle primarie di coalizione io non mi candido voglio dare una mano sono d'accordo sulle primarie di coalizione ha detto Mascarin riconosco il merito di aver posto la questione politica rompendo gli indugi ebbene c'è una intervista una botta risposta tra l'assessore e la giornalista Anna Marchetti che dice anche per il PD di Fano le primarie sono la scelta giusta per il PD sono un elemento identitario fin dall'origine ha confermato Tinti e poi chi sarà il candidato del PD? a questo punto ovviamente il nome non viene fatto ma Tinti risponde dobbiamo esprimere una figura unica sarà l'occasione per ritrovare l'unità sappiamo come all'interno del PD ci siano correnti contrapposte che non vanno sempre molto d'accordo al centro-sinistra allargato serve il protagonismo delle donne e degli uomini del PD ebbene e poi c'è anche la domanda sui 5 Stelle se si farà un'alleanza o meno la base di partenza della coalizione deve essere sempre il centro-sinistra attuale ha detto Dimitri Tinti poi si può dialogare con il terzo polo che con Marchegiani di azione già di fatto fa parte della coalizione e con il Movimento 5 Stelle di cui apprezzo l'evoluzione dialogante e la progressiva emancipazione delle derive populiste del passato insomma una botta a favore una botta un pochino critica questa è un po' la posizione di Dimitri Tinti insomma una parte importante della giunta in quanto conduce un assessorato non facile e molto impegnativo come quello appunto dei servizi sociali giù le barriere architettoniche decolla il piano atteso da 30 anni si è svolto nei giorni scorsi un incontro al cinema Masetti che ripone all'attualità il PEBA ovvero il piano delle barriere architettoniche un piano in atto all'interno della coalizione di governo da diverso tempo ora sono state coinvolte sia il Politecnico delle Marche per la redazione del piano sia gli studenti del Don Orione i quali hanno nell'attività di scuola lavoro realizzato un progetto molto interessante un progetto che prevede la sollevazione delle carrozzine dei disabili in modo da porle all'altezza delle varie superfici con cui devono interloquire con cui devono relazionare come per esempio quella di un sportello bancario giù le barriere architettoniche decolle il piano atteso da 30 anni l'assessore ai lavori pubblici Barbara Brunori la Politecnica sta facendo un gran lavoro per indicarci quali dovranno essere gli interventi per il futuro e poi un lutto un altro lutto addio a Katia Migliori intellettuale raffinata la cultura è in lacrime e scomparsa Katia Migliori una importante docente dell'Università di Urbino una poetessa una saggista una scrittrice veramente importante docente dell'Università di Urbino dicevo era un'intellettuale raffinata così la ricordano il poeta Marco Ferri e il direttore di passaggi del festival Giovanni Belfiori i quali ieri hanno dato la triste notizia i suoi funerali si svolgeranno domani mattina alle 10.30 al cimitero dell'Olivo e intanto il suo ricordo ha riempito veramente di tristezza e di dolore gli ambienti culturali della città vediamo ancora qualche notizia sul resto del Carlino a Marotta ex holiday da ecomostro a cantiere vuoto il segretario Dem di Mondolfo Marotta Samuele Mancini dice un biglietto da visita ancora peggiore della struttura che c'era prima l'attuale situazione appunto dell'ex holiday nel cuore di Marotta siamo passati veramente ad un ecomostro ad un cantiere vuoto fermo da 4 anni che per certi versi è un biglietto da visita ancora peggiore e questa è l'amara considerazione del segretario Mancini inutilizzato dalla seconda metà degli anni 90 l'albergo è particolarmente fattiscente e molto degradato e quindi dovrebbe essere ristrutturato a Pergola è tutto pronto per il raduno del tradizionale e il raduno dei camper l'evento si chiama primavera decine di equipaggi dell'Italia e anche da fuori l'evento richiama ogni primavera appunto queste queste presenze da ogni parte d'Italia arriva la festa di Pasqua e la proloco di Pergola come ogni anno chiama gli appassionati del turismo plein air con il suo tradizionale raduno camper di Pasqua in programma dal 8 al 10 in un contesto paesaggistico di grande importanza e poi Pergola riserva sempre delle sorprese ai turisti agli ospiti che ospita appunto che trattiene nel suo territorio si restaurano 12 opere che ritraggono personaggi illustri a Pergola l'assessore Ilari adesso la nostra amministrazione sta studiando la collocazione e sono veramente opere d'arte del sedicesimo e diciassettesimo secolo e con questa notizia noi chiudiamo la nostra rassegna stampa dandovi appuntamento a domani alle ore 7 grazie per l'ascolto a risentirci grazie per l'ascolto